C'è una nuova lettura per il duplice tentativo di omicidio di Orazio Pardo e Salvatore Liotta avvenuto il 1 ottobre del 2009 a Catania, causa forti contrasti da due clan rivali per il controllo di un'estorsione ad un imprenditore edile. Nuovo ordine di custodia cautelare in carcere per Francesco Di Stefano, 38 anni, esponente di spicco dei cursotti milanesi, già finito in manette per quel reato il 6 ottobre del 2011, ma il provvedimento era stato annullato dal Tribunale del Riesame. Il nuovo input alle indagini è stato fornito dal pentito Michele Musumeci. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono fruttate tre nuovi indagati, uno è appunto Di Stefano, gli altri due sono Nicola Cristian Parisi, già detenuto, e Rosario Angria, arrestato alla squadra mobile. Pardo e Liotta, tutte e due dal cancappello, rimasero feriti nell'agguato in maniera non grave. Pardo ha un piede e Liotta una gamba. I due non si fecero medicare in strutture pubbliche né denunciarono l'accaduto. L'episodio è emerso ugualmente grazie alle intercettazioni che la polizia aveva incorso sui due gruppi criminari. Ma si è scoperto che il vero obiettivo del gruppo di fuoco dei Cursotti era il boss Giovanni Colombrita. I sicari, non trovandolo, aprirono il fuoco contro Pardo e Pliotta, ferendoli. Di Stefano, ritenuto allora reggente Cursotti Mianesi, è indicato dalla squadra mobile come il mandante dell'agguato, mentre Parisi e Angria è contestato all'accusa di aver avuto un ruolo nell'esecuzione materiale del tentativo di omicidio. In particolare, ad Angria è contestato di aver messo a disposizione un'auto al gruppo di fuoco partecipando a distanza all'agguato. Alle indagini hanno partecipato anche altri pentiti, Vincenzo Pettinati e Eugenio Studiale, Gaetano De Quino e Gaetano Musumesci, che avevano evidenziato il conflitto tra la Cosca Cappello e i Cursotti milanesi a causa di un'estorsione appunto contesa ad un imprenditore edile.